Polizia, carabinieri, mafiosi e politici, erano tutte e tre d'accordo e quindi se ne frega. Del piccolo siciliano di provincia, ma chi se ne fotte? Di questo peppino impastato. Mari Cirissi, domani buttatemi a Palermo che mi costituisci di parte civile subito. E diciamo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, perché ci identifica, perché ci piace. Ono mafia, mafia, ono mafia, mafia, ono mafia, mafia, ono mafia, mafia, ono mafia, ono mafia, ono mafia, mafio, 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 mafio Grazie a tutti.